Benvenuti da Claudio Brachino a questo nuovo appuntamento con il nostro nuovo format di esteri che abbiamo lanciato all'inizio del 2024 e lo vedete USA 2024 perché si vota a novembre si sceglierà il Presidente degli Stati Uniti e noi accompagniamo questo racconto, questo grande romanzo politico della più grande democrazia del mondo e quello che succede nelle primarie del Partito Repubblicano che sceglieranno il candidato del Partito Repubblicano e nelle primarie del Partito Democratico sceglieranno ovviamente il candidato del Partito Democratico. È collegato con noi Stefano Vaccara da ottobre corrispondente dagli Stati Uniti di Italpress nel suo studio lì all'ONU, nel suo ufficio all'ONU con il bel microfono di Italpress davanti a lui. Allora ci eravamo lasciati un po' di tempo fa dando un appuntamento che stiamo mantenendo cioè un po' prima di quello che succede il 24 febbraio nel Sud Carolina o South Carolina poi te lo faccio divertire che conosci l'inglese meglio di me e insomma perché si voterà per i repubblicani e poi faremo ovviamente il giorno dopo precisamente il lunedì faremo l'analisi di quello che è successo. Allora perché questo voto in Sud Carolina o South Carolina è così importante per i repubblicani? Sarà decisivo per Trump o quasi decisivo o pseudo decisivo? Beh, allora è importante, è diventato molto più importante del solito perché la sfidante di Donald Trump, Nikki, lei è della Sud Carolina. Io ho fatto un mix di tuo South e Sud, allora, della South Carolina. Lei è stata governatrice della South Carolina. E allora gioca in casa, dovrebbe giocare in casa, però sta indietro nei sondaggi. È diventato molto importante perché comunque è uno Stato importante, perché è il termometro del Sud. In che significa? Che si comincia a votare al Sud, no? Prima si è votato nel Middle West, in Iowa, poi in New Hampshire, nel New England. Ora si vota al Sud. Non si vince né la nomination né la presidenza degli Stati Uniti. Si vince contro il Sud o se non ti vota nessuno al Sud. E quindi è per questo importante. Ricordiamoci per esempio Biden, quattro anni fa, dopo aver perso in Iowa, aver perso in New Hampshire, ormai la davano per spacciato, lui vinse in Sud Carolina e da lì, poi, no? Vi cominciò a prendere la nomination. E allora, questo è importante. Tu mi dici è risolutivo, cioè quello che decide? Fino a un certo punto, perché proprio ieri, Michieli, dove tutti pensavano, beh, se perde il grande A in Sud Carolina, casa sua, se ne va a casa, invece no. Perché lei ha detto, anche se io dovessi perdere in Sud Carolina, continuerò sicuramente fino al Super Tuesday. Il Super Tuesday, che sarebbe il 6 marzo, che sta arrivando, ormai siamo alle porte, è il giorno più importante delle primarie. Perché sono tantissimi gli Stati coinvolti, non soltanto graficamente al Sud o al Nord, ma sono dappertutto. E quello, diciamo, che ci dirà, ci dirà chi è il... Il, in questo caso, tutti pensano a Trump, però, effettivamente, quella è l'ultima carta che Michieli potrà giocarsi. Allora, tutto chiaro, facciamo un po' di, come si dice, di flashback, visto che ci siamo collegati un po' di tempo fa e raccontiamo un po' di cronaca politica di queste tre settimane, insomma, forse addirittura di più, che non ci sentiamo. Innanzitutto diciamo che è un po' una notizia che è passata quasi in secondo piano, che Biden, sempre in Sud, Carolina, Stavinto. Anche questo mi sembra una notizia importante. La puoi commentare brevemente anche questo? È una notizia. È importante perché era la prima... Siccome hanno fatto saltare l'Iowa e il New Ancer, in un certo senso, perché non dava delegati, era il primo appuntamento che lui ha superato alla grande, col 95%, però non ha fatto notizia perché era tutto previsto. Era tutto previsto. Quindi non c'è stata sorpresa, no? C'è stata sorpresa. Però, nel frattempo, che cosa è successo? Io te la sintetizzo così, no? Trump ha cominciato un po' più a far vedere quello che ha in mente, ha cominciato a dire delle cose sulla Nato che hanno inquietato moltissimo gli alleati europei, insomma, ha fatto capire che ci potrebbe anche non essere l'America nella nuova Nato del ventunesimo secolo, ha detto anche che gli stati che non spendono un tetto previsto del loro PIL nelle spese militari, non hanno diritto non solo a non essere nella Nato, ma ad essere difesi dalla Nato, che ha detto se Putin vi attacca che faccia pure. e poi ha fatto capire, rispetto a Putin, rispetto alla guerra in Ucraina, di essere chiaramente dell'idea, insomma, che si cesse il fuoco lì dove è Donbass o non Donbass e si chiuda questa guerra e ha fatto capire che con il dittatore Putin non c'era stata ancora la tragedia di Navalny, insomma, lui avrebbe dialogato. Questo da un lato è Trump, che ora commentiamo. Dall'altro lato c'è stato un sondaggio dei media americani, ci direi tu bene come, insomma, che dice sostanzialmente che Biden è anziano, sostanzialmente ha un'età per cui perde la memoria, insomma, inciampa, non è lucido, non si ricorda i nomi, fa delle gaffe, possiamo avere un presidente per altri quattro anni che è in queste condizioni. Allora, questa cosa sembra secondaria, noi abbiamo già affrontato il tema della gerontocrazia, diciamo, in queste elezioni americane, però, e voglio dire, Trump non è giovanissimo, ha quattro anni di meno, se non sbaglio, però su Biden c'è questa ombra per cui si è sentito riparlare di Kamala Harris, che era scomparsa completamente, diciamo, in un'assenza di popolarità, se me lo concedi. Io ho fatto il mio comizio. A te il giudizio di che cosa ha fatto il Partito Democratico fino adesso e di cosa hanno fatto i repubblicani con Trump fino adesso. Claudio, tu hai fatto un'ottima sintesi di quello che è avvenuto quando ci siamo lasciati una volta. Su questa sintesi, l'unica cosa che posso dire è questo, che è tutto vero che Biden si trova in questa situazione dove la maggioranza, non stiamo parlando di una piccola minoranza, ma la maggioranza dei democratici che dovrebbero appoggiarlo e votarlo è molto, molto preoccupata. In più c'è stata, ecco non l'avevi accennato, ma diciamo che ha fatto riesplodere questa questione dell'anzianità del Presidente, un rapporto che un procuratore speciale che si chiama Hur, comunque che stava indagando su documenti che Trump aveva tenuto in ufficio segreti a tempi di quando era Vice Presidente, ecco nel discolparlo, cioè nel pubblicare questo rapporto diceva, vabbè lui dopo tutto ha capito che non poteva processarlo per questo, però ha scritto che effettivamente il Presidente ha mancanza di memoria, ne ha scritto di tutti qua, addirittura scrisse, che tra l'altro molto critico, che ricordava Biden quando suo figlio, la data della morte del figlio. Ora questa cosa tu capisci che ha fatto diventare di nuovo quello che già c'era, l'ha fatto esplodere di nuovo. Ne approfitta Trump, a parte il fatto che Trump anche lui ne ha combinato con la memoria, comunque con delle gaffe che qualcuno, soprattutto Nicky Ely, attribuisce all'età. In realtà la sfida Biden-Trump, la sfida finale di novembre, la maggioranza degli americani non la vogliono, cioè c'è stato pure un sondaggio che dice che la maggioranza, se metti tutti i democratici, indipendenti, repubblicani, il 60% non vuole dover scegliere tra questi due. L'ha capito bene Nicky Ely che ne ha fatto il suo cavallo di battaglia per la sua campagna elettorale. Lei dice e ripete, questo lo fa già dal New Hampshire quando ci eravamo sentiti l'ultima volta e io ora lo ripeto qui, lei continua a ripetere nella sua campagna elettorale, vincerà il partito, quello di due, che si libererà per primo del suo anziano candidato. D'altronde è anche un altro record, ho fatto che per ora Biden ha battuto tutti i record perché non c'era mai stato un presidente 81enne dentro l'ufficio vale e la candidatura, cioè se la sfida sarà veramente Biden contro Trump assisteremo a una sfida inelita mai successo prima di ci avremo presidente, chiunque vinca sia Biden che Trump che per la prima volta entrerà all'ufficio vale con un'età record. Quindi effettivamente hai azzeccato che un punto sicuramente molto importante dovrebbe aiutare Ely, però fino adesso non l'ha aiutata. Senti ti voglio fare questa piccola provocazione, quando sono venuto a ottobre nella tua bellissima città e abbiamo celebrato il trentacinquesimo compleanno di Italpress e abbiamo anche celebrato l'apertura di quell'ufficio da cui tu ti colleghi, si vedono i palazzi di New York dietro la tendina, ricordiamo che sei uno dei palazzi più importanti del mondo, il palazzo dell'ONU. Allora dopo parliamo di politica estera, ma a cena ho sentito un po' di colleghi all'epoca che dicevano questa cosa che mi aveva colpito, forse ne abbiamo già parlato ma non mi ricordo di averti fatto risa, se anch'io ho questo problema, non mi sto candidando per gli Stati Uniti ma ho qualche problema di memoria, forse devo prendere delle sostanze. Ma non è che ci potrebbe essere uno schema di questo tipo, che si manda avanti Biden per un po' e si fa mandare il partito repubblicano su Trump, quindi esce di scena la sua rivale più giovane e quando Trump è sicuro di essere candidato del partito repubblicano, colpo di scena, compare una figura più giovane nel campo democratico che potrebbe avere anche un nome importante tipo Michelle Obama. Che ne dici di questo schema che ho sentito a ottobre nella tua bellissima città? Guarda, le elezioni americane sono come quando gioca la nazionale italiana di calcio, tutti diventano allenatori e tutti fanno schemi e ovviamente noi commentatori, anche noi commentatori cerchiamo di fare lo stesso come si fa con la nazionale. In realtà, mentre questo è uno scenario sicuramente, sicuramente qualcuno, parlo di piccole pubblicazioni, il New York Times, politico, hanno fatto proprio degli scenari dove Biden vince le primarie agevolmente, però poi prima della convention e quella che lui deve fare ad agosto a Chicago, ecco poco prima lui annuncia che si ritira e la convention nomina. Beh, Michelle Obama diciamo che qua rientriamo veramente, perché Michelle Obama ha già dichiarato tante volte che non le interessa, però sicuramente che nomineranno un candidato a sorpresa. Io su questa tua giusta osservazione, però questa è una mia analisi personale, io reputo che se Trump, perché Trump ha tanti guai giudiziari, attenzione, i guai giudiziari non lo poggiano nei sondaggi dal lato dei consensi, perché la gente continua a votarlo, cioè vuole continua a sopportarlo i cosiddetti maga. Però questi guai giudiziari gli pesano dal lato soprattutto economico. Ora c'è stata una sede di 355 milioni di dollari e guardate che qua è una notizia di queste ore, la procuratrice qui a New York ha detto se lui non comincia a pagare, poi sequestriamo i beni, sequestriamo i palazzi, insomma lui ha tanti guai, su altri processi molto più importanti. Si pensa che Trump forse non arriverà effettivamente alla fine, fino alla candidatura, ma se dovesse arrivare, questo è il punto che faccio io, in realtà se Trump è il nominato, allora io credo che Biden rimarrà il nominato democratico. Perché effettivamente Biden nei sondaggi contro Trump, si sono testa a testa, però ricordiamoci Biden ha già vinto una volta e comunque si pensa che alla fine anche chi non vorrebbe votare Trump e escusa Biden per tutto quello di cui abbiamo detto, le identità e tutte cose, alla fine tra i due, no, turandosi il naso come diceva Montanelli, voterà per Biden. Se invece Trump non dovesse farcela, ecco che i sondaggi dicono che qualunque candidato repubblicano, non mi chiedi, ma qualunque candidato batte Biden e a quel punto, ma questo ripeto, questa è un'analisi che ancora io ho letto poco, però io secondo me è proprio questo, cioè i democratici, quelli del partito, non gli elettori, vogliono Trump, vogliono Trump. Lo sai da dove lo capisci? Te lo dico subito l'indicazione. E così arriviamo al punto di quello che ci interessa e di cui parleremo lunedì. Perché Eli è 30 punti indietro nei sondaggi? Perché non riesce a recuperare? Non riesce a recuperare, perché non riesce a sfondare su quelli che dovrebbero appoggiarle in un'elezione aperta, cioè dove i democratici possono andare a votare. I democratici che non hanno votato possono andare a votare. Lei non riesce, non riesce a prendersi democratici. Perché non li riesce a prendere? Sì, tante ragioni, i neri che sono in South Carolina tantissimi, il 25% non le piace, tutte tante le ragioni, ma in realtà è perché il partito democratico, i dirigenti del partito democratico, non spingono i democratici ad andare ad aiutare Eli nelle primarie. Perché? Perché vogliono Trump. Certo, tutto chiaro, chiudo questo che è finito anche il nostro tempo, ma se ci prendiamo un minuto in più non succede niente, e che devo dire, nelle scene del complotto new yorkese ho sentito anche questo, che alla fine non si candideranno né Biden né Trump. Però ad esempio questo ce la rende appassionante, così almeno, se no facciamo come il campionato italiano, perché l'anno scorso il Napoli c'era 20 punti a questo periodo dell'anno, l'Inter quest'anno ce ne ha 10 e diventa noioso, qualche cosa dobbiamo pur dire per divertirci un pochino politicamente. No, ti volevo dire questo, ma magari lo affrontiamo poi bene alla prossima puntata, se ci riesci in pochi secondi ora, poi lo approfondiamo, te lo prometto, di spiegare al pubblico italiano per quale meccanismo un Presidente degli Stati Uniti, pur con molti guai giudiziari, io ho letto così, poi magari mi sbaglio addirittura in carcere, però può fare il Presidente degli Stati Uniti. Ma insomma in carcere mi sembra eccessivo. Sì, c'è più, sì, allora, il fatto è questo, anche in carcere, il fatto è questo che nell'azione si sono dimenticati, forse non si aspettavano, che un Presidente potesse essere condannato penalmente a andare a finire in carcere. Non l'hanno previsto e quindi tutti questi costituzionalisti non riescano a capire ma che succede se Trump va a finire in carcere, prima delle elezioni. Bene, i precedenti dicono che, perché precedenti? Perché ci fu un candidato comunista, diciamo così, o comunque che è radicale, che era messo dentro le sbarre e rimase candidato. In realtà Trump, sì, può rimanere candidato, spetta a lui deciderlo. Poi se dovesse vincere, se dovesse vincere, si può anche, sempre per queste questioni costituzionali non chiarite, autoperdonarsi. C'è però lì un se, attenzione, c'è questo quattordicesimo emendamento della Costituzione che vieta chi partecipa a un'insurrezione e aveva giurato sulla Costituzione di poter diventare Presidente. Perché poi candidare, forse si può candidare, ripeto, qua la Corte Suprema ci dirà tra pochi giorni, forse tra pochissimi giorni dirà. Ma, cioè, dirà, oppure passerà la palla se ne la fa male e la passerà al congresso. Però quello che è importante, e purtroppo mi dispiace che non sono riuscito a dirlo in pochissimi secondi, è che alla tua domanda la risposta è sì. Poi potremmo ritrovarci a novembre con Trump dentro, in galera, proprio dietro le sbarre, che vince le elezioni. Beh, insomma, io non ti ho interrotto perché secondo me è una cosa molto importante ed è giusto dirla al pubblico. Ci ritorniamo sopra e la spieghiamo anche formalmente, perché è distante dalla nostra sensibilità europea, è distante anche dal rapporto politica-magistratura che noi viviamo in Italia da mani puliti in poi. Quindi è giusto, quando la gente trova queste frasi, questi mezzi titoli, anche sui grandi giornali, in un tocco televisivo, spiegare bene che cosa accade, perché se no poi uno pensa e dice, oh Dio mio, Trump ha così tanti problemi, ma perché si candida, ma perché vince, ma perché può diventare Presidente degli Stati Uniti. Io però per ora ti ringrazio, ci rivediamo allora lunedì, lunedì 26, per vedere quello che è successo in queste primarie in Sud Carolina o South Carolina per quanto riguarda i repubblicani e quindi il destino per ora di possibile candidato di Trump. Grazie a Stefano Vaccara, corrispondente da New York per Interpress e ci rivediamo allora lunedì e grazie a voi che ci avete seguito e ci rivediamo fra pochissimi giorni. Arrivederci!